in questo periodo è così importante la stabilità finanziaria dell'europa corona bond virus bond recovery fund perpetual bond cosa sono tutti questi strumenti di cui sentiamo parlare ogni giorno ne parliamo oggi con il professor giovanni scannagatta ben trovati a tutti i nostri telespettatori per una nuova puntata di questo ciclo economia prima e dopo con me come sempre l'amico e collega giuseppe fischetti e ospite graditissimo della puntata è il professor giovanni scannagatta docente unitelma alla sapienza di roma per economia monetaria e creditizia ben trovato l'argomento che vogliamo cercare di dipanare oggi visto che di estrema attualità ma anche estremamente complesso soprattutto per i più è quello degli aiuti da parte della comunità europea e quindi prima di addentrarci nel merito di quali sono gli strumenti e quali sono come dire i veicoli di questo genere di aiuto ritengo importante dare già un minimo di contesto contestualizzare insomma lanciarle come si suol dire la palla perché ci possa spiegare per esempio a che cosa servono questi aiuti o meglio che cosa è e perché è importante parlare di stabilità finanziaria all'interno dell'euro gruppo sì beh la stabilità finanziaria all'interno dell'euro gruppo è uno degli obiettivi fondamentali dell'unione europea che deve essere assicurato non solamente dalla banca centrale europea che ha i suoi obiettivi della stabilità del potere d'acquisto della moneta ma ovviamente tutte quante le altre misure e quindi anche misure di politica fiscale che finalmente sembrano che facciano diciamo così la loro comparsa con queste misure provocate necessitate dalle conseguenze economiche tremende del covid-19 ecco professore lei ha parlato di conseguenze tremente del covid-19 ci aiuta a capire più o meno uno scenario che quello che tutti temono poi alla fine no parliamo di effetti devastanti all'interno del sistema europeo può darci un esempio che cosa significa allo stato attuale avere una scarsa stabilità creata dal coronavirus cosa può accadere si beh il primo effetto diciamo che vediamo e che si parla molto anche sui giornali ovviamente è la caduta del prodotto interno lordo nel 2020 e ovviamente forte aumento correlato della disoccupazione però dopo questi effetti parliamo per quanto riguarda l'Italia di una caduta del prodotto interno lordo intorno addirittura adesso a rotondo del 10% rispetto a una media dei paesi UE del 7-8% e per quanto riguarda i paesi più indebitati come l'Italia delle conseguenze diciamo difficili e quindi da valutare e da fronteggiare in modo adeguato se ci riferiamo vado molto veloce al rapporto debito-pill che è uno dei punti evidentemente delicati dell'Italia e che come voi sapete era uno degli indicatori riguardanti il trattato di masti che noi abbiamo sottoscritto cioè il famoso 60% del rapporto debito-pill noi siamo adesso diciamo eravamo al 135% con questi numeri di caduta del pil che vi ho detto e di aumento di indebitamento è ovvio che il nostro rapporto debito-pill va molto in alto con le conseguenze che ci potrebbero essere per quello bisogna essere molto valutare bene tutti i rischi finanziari e fronteggiarli adeguatamente gli effetti che si possono avere sui mercati finanziari in termini di spread appunto di rating e quindi di costo di riprendimento delle risorse sui mercati finanziari internazionali quindi questo è un punto da valutare con molta attenzione insomma Professore se facciamo un'analisi un po' retrospettiva sulle crisi diciamo economiche e finanziarie del passato vediamo per esempio che la crisi energetica 73-77 giusto per dirne una è stata una crisi che è partita da un settore e poi si è propagata agli altri settori ma nel caso di questa crisi coronavirus noi assistiamo ad una crisi trasversale cioè che incide se vogliamo su tutti i settori e in modo particolare sia sull'attività produttiva che sul lato consumo quindi a questo punto non essendoci altri settori traenanti che possano rimediare a quelli che sono in sofferenza secondo lei che cosa deve essere fatto che qual è l'azione a cui possiamo aspirare sì no non solamente degli atti evidentemente noi i nostri compiti a casa li dobbiamo comunque fare però la crisi che stiamo affrontando è talmente larga talmente diffusa che ha colpito come diceva lei in modo orizzontale i paesi sia pure con effetti diversi in relazione anche ai punti di partenza ovvio no questo è molto importante da dove veniamo noi venivamo ovviamente ad una crescita bassa purtroppo come Italia sia per quanto riguarda diciamo la crescita del PIL ma anche con tutti quanti riflessi in termini di produttività allora il punto è che non ci si può salvare da solo per salvarsi bisogna salvarsi insieme e questo è la logica dell'Unione Europea che è importante che noi portiamo avanti che si sta portando avanti e quindi anche l'Unione Europea abbia una visione di medio e lungo periodo così per un rilancio da questa così conseguenza economica tremenda del Covid-19 per un rilancio in ottica lungo periodo del processo di accumulazione e sviluppo dell'Unione Europea che deve andare a favore di quanti paesi quindi anche un grande programma di investimenti sia per quanto riguarda le infrastrutture sia materiali che immateriali sia per quanto riguarda gli investimenti delle imprese questa è la grande sfida che bisogna raccogliere altrimenti evidentemente il futuro dell'Unione Europea è segnato bisogna avere questo grande coraggio di disegnare un grosso programma di investimenti e di accumulazione e sviluppo in un'ottica di lungo periodo però facendola insieme e reperendo le risorse a livello dell'Unione Europea si parlava prima appunto di European Recovery Programma questa è l'ottica che bisogna avere quindi per veciore lei è andato al cuore del problema nessuno si potrà salvare da solo perché la portata è elevata e a livello mondiale e quindi bisogna fare un po' unione noi la dovremmo fare limitatamente a quello che è il nostro panorama che è quello europeo però la domanda che adesso nasce spontanea e qui la prego ci aiuti tanto a capire come ne veniamo fuori aiutandoci? con quali strumenti? perché qui si è aperto e si è detto di tutto di più ci aiuti un po' a capire quando si parla di MES che cosa si intende per MES perché MES sì, MES no BOND, Recovery BOND cioè c'è di tutto di più proviamo a mettere un po' in ordine tutte queste cose ovviamente per quanto si potrà fare in poco tempo che abbiamo cercare di spiegare quale sarebbe lo strumento più veloce e più efficace in questo momento sì, in effetti per quanto riguarda le misure queste sostanzialmente sono tre tre misure sia pure in fase diversa cioè la misura del MES la misura della BEI con le garanzie e quella del SURE per quanto riguarda diciamo l'occupazione quindi cassa integrazione guadagni e quant'altro di queste tre misure cioè MES, BEI MES ovviamente stati BEI per quanto riguarda le imprese SURE per quanto riguarda l'occupazione quello che con grande fatica è andato fino all'importo è il MES questo meccanismo appunto europeo di stabilità che era un vecchio meccanismo che il fondo così salva stati così chiamato che aveva grosse condizionalità tremende anzi e le spese come sappiamo di queste condizionalità tremende per quanto riguarda così gli aggiustamenti di tipo macroeconomico l'ha fatta la Grecia e quindi su questo per quello l'Italia era molto restia però io penso che dopo varie discussioni questo MES è stato per fronteggiare questa situazione del coronavirus messo abbastanza così in linea e accettabile dal mio punto di vista per quanto riguarda l'Italia perché il MES non ha più condizionalità diciamo almeno di quelle che conoscevamo ha solo una condizionalità che riguarda il settore della sanità per quanto riguarda le spese dirette e indirette e quindi ha un elemento di automaticità quindi non ci sarà più quel discorso della condizionalità che poteva mettere in grossa difficoltà l'Italia le risorse per quanto riguarda questo primo strumento è primo strumento poi ci sono gli altri due quindi tutto da vedere le risorse messe in campo sono di 240 miliardi di euro sono di 240 miliardi di euro e ogni paese va diritto ad un massimo per queste risorse per fronteggiare appunto la questione sanitaria il 2% del PIL allora per quanto riguarda l'Italia siccome il nostro PIL è circa 1800 miliardi si tratta di 36-37 miliardi di euro secondo me questo è stato un compromesso raggiunto con grande difficoltà ma un compromesso a mio modo di vedere accettabile per quanto riguarda le altre misure e cioè il discorso Bay Imprese per spiegarmi e il discorso source occupazione è tutto ancora da vedere e ovviamente in cima a tutto c'è da vedere appunto questo discorso dell'European Recovery Fund quello sta sopra tutto insomma anche perché lì si parla veramente di migliaia e di miliardi l'ha detto molto chiaramente anche alcuni interventi Ursula Fondaria di questo discorso poi come sarà come non sarà quanto sarà l'importo di questo European Recovery Fund come saranno distribuite le risorse i criteri e gli indicatori per distribuire le risorse la Spagna parla appunto dell'aperito del PIL e tutto quanto ancora da vedere molto probabilmente tutta questa problematica dovrebbe essere affrontata presumibilmente nel mese di giugno noi sulla nostra lavagna abbiamo in maniera provocatoria scritto la parola sì in tedesco e poi abbiamo messo il mess che è l'argomento così viene fuori James e poi abbiamo messo Bond perché abbiamo parlato di Bond quindi è un James Bond nel senso che è un po' un attore segreto e per svelare un po' questi aspetti io vorrei anche ricordare che il mess è un'organizzazione è un'organizzazione con sede in Lussemburgo il cui presidente è questo famigerato Klaus Regling che è stato nominato ecco leggendo le regole un po' del mess viene fuori che l'Italia mi pare con 14 miliardi sia il terzo paese come contributi al fondo mess e che le decisioni all'interno del mess di accettazione delle richieste di aiuto siano prese a maggioranza semplice mentre abbiamo assistito a una discussione su alcuni paesi del nord Europa che non erano d'accordo riguarda la necessità invece di una unanimità credo per la modifica di alcuni meccanismi di funzionamento è così? Sì ma questo è un punto a discuto tenendo presente come diceva lei che l'Italia conta molto praticamente perché se guardiamo ma questo vale anche per il capitale per esempio della BCE e della Banca Centrale Europea ma in questo caso qui noi siamo tra i primi tre quindi non è che possano fare a meno dell'Italia ma l'Italia quindi deve far valere la sua posizione per far passare certe condizioni e quindi anche fronteggiare questa posizione veramente strana che aveva fortemente la Germania che adesso si è molto addoncita e l'Olanda cioè i paesi del nord però mi sembra da questi movimenti sia pure tardivi ma sono venuti e meno male che alcune possibilità per essere cautamente ottimistici siano insomma e anche perché io credo che essendo appunto come diceva lei Germania Francia Italia i maggiori contributori e questo è il nostro paese e questo è un punto di forza che non va dimenticato insomma questo maggiore delle quote 15% 15% 15% almeno questo è un punto fondamentale e secondo me se senza l'Italia non si va da nessuna parte io sono convinto di questo non dobbiamo mai dimenticare che noi siamo il secondo paese in Europa ma questo è un punto di forza non dobbiamo adesso così tirarci indietro dobbiamo eventualmente mettere sul sul piatto della bilancia questa forza perché senza l'Italia che sono anche passiamo eventualmente ai paesi fondatori del mercato comunico per i trattati di Roma eccetera che sono fatti a Roma secondo me non vanno a sapere cioè se mettono in difficoltà l'Italia praticamente crolla tutto quanto l'Unione Europea non è pensabile che si porti avanti un progetto senza che l'Italia eventualmente dia la sua la sua sua senso o accetti eventualmente i programmi che verranno fatti è impensabile e qui viene fuori scusate se adesso faccio un riferimento molto così più di tipo culturale questo famoso dilemma di Thomas Mann Thomas Mann aveva già capito questo discorso e da qui siamo di fronte sempre e lo troviamo anche adesso a questo famoso dilemma di Thomas Mann vogliamo una Europa tedesca o una praticamente una Germania europea secondo me se non salta fuori la Germania europea la Unione Europea non ha nessun futuro prima cosa seconda cosa su questo discorso l'Italia ha delle cartucce fortissime da spendere bisogna spendere bene ovviamente e saperle spendere professore un'ultima domanda prima di lasciarla ringraziandole ovviamente del tempo che ci ha dedicato e delle sue spiegazioni che ci hanno aiutato a comprendere tutto questo marchigegno che c'è attorno e che ruota in questo momento molto particolare alle disponibilità dell'Europa ma ipotizzando che si riesca a trovare gli strumenti più idonei che tutto vada nel modo migliore questi soldi che saranno poi erogati possiamo avere un'idea di che percorso seguiranno cioè in base ovviamente a quello che è la sua esperienza nel merito qual è l'iter che poi si seguirà nel momento in cui saranno erogate queste cifre che dovranno far ripartire velocemente un po' tutti i paesi sì no certamente questi qui se vogliamo dare un inquadramento a queste risorse e poi bisogna vedere appunto come siamo prima anche il modo tecnico in cui verranno raccolte queste enorme risorse quindi il problema degli euro bonds vecchio problema adesso qui non è il momento però diciamo il tentativo è di collocarli sempre nel bilancio plurienare 2021-2027 è ovvio che eravano lì dentro anche perché lì poi ci saranno delle risorse non dobbiamo dimenticare che il bilancio dell'Unione Europea è pari solamente all'1% di tutto quanto il bilancio dell'Unione Europea è pochissimo quindi lì si possono fare degli sforti e anche attivare altri strumenti di cui già si parla come ad esempio alcune imposte comuni relative alle attività inquinanti e l'altro problema che si è fatto di dimenticare è questo diciamo ecologico è un altro problema tremendo che si collega in qualche modo anche al discorso della pandemia che stiamo vivendo quindi il collegamento è questo poi sul piano tecnico come verranno raccolte queste enormi risorse si parla di miliardi di risorse di miliardi come verranno distribuiti criteri in base a quali queste enormi risorse verranno distribuiti ho parlato prima dell'ipotesi Spagna ma è tutto quanto da vedere sono tutte cose che dovranno essere discusse e concordate cari amici abbiamo cercato di capire con il nostro ospite professor Scanagatta quali sono gli strumenti a disposizione della Unione Europea e del Paese Italia per garantire la stabilità finanziaria con questo vi salutiamo e vi rimandiamo al prossimo appuntamento grazie ancora per averci seguito vi ricordo il nostro indirizzo mail che è contatti chiocciola bag srls punto it l'ipote 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 Grazie a tutti.